Ci devi stare, la squadra di calcio, che compra la squadra di calcio, ci devi stare. Visto che tu stai sempre fuori, anche su come l'hanno presa sta cosa? Cioè ci ha fatto brutta figura solo il Catania o anche la Sicilia, la solita fanga? No, la figura è il calcio, perché non è che è la prima volta. Del marzo, io non voglio difendere, però voglio dire, come ho detto scherzosamente prima, sarebbe stato peggio. Io vado sempre a vedere che poteva andare e che poteva essere peggio. Delle volte il troppo amore porta sempre a sbagliare. Pure quando sei innamorato di una bella femmina, sbagli sempre quando sei troppo innamorato. Evidentemente... Potrebbe essere un segnale di clemenza questo, no? Non lo so, il danno è stato talmente tanto che... Ma secondo te vuol dire di cosa gli ha detto al magistrato? Mi non traccio niente.